Arriva lo stop alla vendita dell'Otomelara e di UOS, i due settori della Business Unit Sistema Difesa di Leonardo, una trattativa che va in stand-by a causa della guerra tra Russia e Ucraina. Leonardo nei mesi scorsi aveva comunicato di aver ricevuto due manifestazioni di interesse per Otomelara, che produce cannoni navali e cannoni per uso terrestre, e UOS specializzata in caccia torpedinieri. Soddisfazione da parte dei sindacati. Riteniamo importante, afferma la CISL, che si sia al momento scongiurata questa possibilità di vendita, grazie alla mobilitazione dei lavoratori diretti e dell'indotto, e al sostegno bipartisan di tutti i parlamentari e di tutte le istituzioni del nostro territorio. L'On. Emanuela Gagliardi di Cambiamo evidenzia, se la notizia fosse confermata, sarebbe assolutamente positiva e rappresenterebbe un importantissimo passaggio in questa vicenda. Come lega, afferma invece l'On. Lorenzo Viviani, ci siamo battuti da subito con il sottosegretario di Stato alla difesa Stefania Pucciarelli, che per prima ha acceso i riflettori sulla vicenda, affinché queste due importanti realtà rimanessero in mani italiane.